Un tempo si tracciava Salina e Demarcazione, dice la politica è il luogo di tutte le nequizie possibili, mentre dentro la magistratura, nel convento della magistratura, abitano le clarisse cappuccine. Insomma non è più così, anche la magistratura ha i minimi storici come indice di gradimento. Però ti posso dire una cosa, mentre sentivo questo comizio di Gasparri mi veniva in mente... No, è una perfidia di Gasparri che ci ha regalato. Mi veniva in mente quando Gasparri sulla base della commissione d'accesso del comune di Bari chiedeva l'intervento della magistratura quando la commissione d'accesso è sulla base di un atto amministrativo. Quindi questi garantisti sempre verso se stessi o verso i loro amici e non garantisti in assoluto, perché le garanzie, lo sono per definizione delle garanzie che devono valere per tutti, un po' mi preoccupano. E Gasparri tutto può essere, tranne un garantista. Però mi pare che il PD abbia sposato la linea delle manette a tutto tondo. Non aveva sposato, adesso ci stiamo provando a cambiare con grandi, tu lo sai che io faccio una battaglia da una vita. Ma non mi faccio fare le lezioni da Gasparri. Come dire, i tamburi primitivi della cultura patibolare dei 5 stelle, il PD in qualche modo si è accodato e mi pare che sia sempre dalla parte... In Liguria che è successo? Hai ragione, in Liguria abbiamo perso per questo. In Liguria si perde nonostante l'inchiesta, nonostante sia stato esibito il cappio per toti. Insomma ragazzi, Santi non ce n'è, abbiamo detto. FUNDERSTREAM